si oh, sorrisiamo i coriandoli ciao allora, sorrisiamo i coriandoli ciao ciao io stavo vedendo un video ah, è un viaggio per te per fare pubblicità la gioia di tuo carnevale ahahahahah vabbè noi lo stiamo senza coriandoli però guarda i si è aperto adesso è un mondo virtuale è il momento, scrollati brava ahahahahah sembri un cane rabbioso ahahahahah perché metti le pulci o qualcosa del genere ahahahahah sto con questa musica che teni sottofondo poi è perfetto ahahahahah ahahahahah no no ahahah 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 è una canzone di Gesù è una canzone di Gesù troia ma come fa volare ahahah perché ride quella? ahahah è una canzone di Gesù è una canzone di Gesù dai oh guarda Elena non mi chiamo Elena quanto vuoi hai detto guarda Elena non vedo cos'è? è la mia maglia di scorta è una maglia di scorta è una maglia di scorta no diverte io non ho i coriandoli no infatti non hai più nulla da scrollare è questo scrollando tutto ecco guardare per terra è da notare non ho i coriandoli notare tutti i coriandoli no tu non hai più almeno tutto senza i coriandoli pietra non è che il coro ne ha la ciotola nel cappuccio il cappuccio è tutto coriandoloso nooo arrivo la scusa la grena migliore guardatela piena piena se vuoi te la tengo io nooo è già proposta di questo postore di pomeriggio un'ora vale l'altra saluta Kappa non si ferma non si ferma non si ferma non si ferma non no